Il napoletano Martux M, uno dei pionieri della musica elettronica italiana, ha appena pubblicato il nuovo album Atlas, registrato con il trombettista tedesco Markus Stockhausen, figlio del grande compositore Karl Heinz. Atlas in qualche modo è come un arcobaleno, una possibilità infinita di percorsi e l'elettronica con Markus Stockhausen ha questa idea di sperimentarsi, soprattutto su due campi diversi, Markus viene dalla classica e dal jazz, jazz d'avanguardia in qualche modo, e l'elettronica che un po' io, un po' più da come dire, di underground, e questo incontro abbiamo pensato proprio di connearlo in questo modo. Il lavoro è uscito in vinile, una side A e una side B, due polarizzazioni diverse, una è elettronica e l'altra acustica, come i poli di una batteria che con essi generano energia. Questo è un vinile in edizione limitatissima, ce ne saranno soltanto 300 copie in tutto il mondo e poi invece il resto viene dato in virtuale, gratis. Avere due side è una cosa che solo il vinile ti permette, un supporto che sta tornando a imporsi sul mercato, anzi. Chiaramente nel campo dell'elettronica non è mai morto, i DJ usano i vinili, quindi in qualche modo insomma è una pratica che funziona. Beh, di vinili a casa pochi, però insomma stivati in studio saranno più di 2000.